Carissimi, saluto tutti e ciascuno di voi con animo grato e sincero. Il pensiero va alla comunità monastica, ai sacerdoti e all'intera comunità diocesana di cui sento viva la preghiera che si innalza al Signore per la mia salute. Sperimentando nella doppia veste di medico e paziente la fragilità dell'uomo e al tempo stesso la sua grandezza. Fragilità perché è sufficiente un attimo per cancellare il tuo malgrado di impegni in agenda. Grandezza perché sperimenti il desiderio tenace di guarire, si spinge a non arrenderti e alimenta il coraggio di insistere per una piena represa. Comprendo ancora il meglio di il dolore, le debolezze, i momenti di sconforto che possono impratonirsi del cuore di chi soffre. A costoro va il mio pensiero. Ad essi rivolgo l'invito caloroso a non arrendersi. Mai. Ma comprendo ancora di più la forza e quindi l'ancissità della preghiera. È di grande consolazione sapere che oltre da testati di stima e affetto non sono mai venuti meno le vostre preghiere. Preghiere che il Santo Padre ha assicurato, ha presa la notizia della mia malattia. Al Papa Benedetto XVI rivolgo grato il mio pensiero e riconfermo la mia filiale devozione e incondizionata obbedienza. Per ringraziare di nuovo tutti voi vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera soprattutto nella prossima solennità dell'Assunzione di Maria Vergine. Grazie.